Allora, ero in questa riunione noiosissima su... ...qualcosa. Boh, non so, non stavo seguendo. Poi... BOOM! Un concorso di bruttezza e tutti con la coppa in mano. Sto tizio qua mi fa... Allora gli ho sparato... Pfff! Poi a un altro... E ad altri due, così, per precauzione. Pfff! 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 Io... li ho riempiti di piombo. Modestia a parte. E poi... Salta in aria il mio ristorante preferito. Per fortuna è rimasta quella pizzeria, ma sto divagando. Insomma, io faccio... Ci penso io. Hai presente, no? Quando sei preso bene dalla situazione fai... Ci penso io. Ma poi... Non ce la potevo fare, no? Non ce la potevo fare. Dove di esserci? Si torna al lavoro. Ehi! Muoviti! Manco il tempo di bere un concetto. Arrivo!